La questione dei rifiuti in città, la raccolta continua ad andare un po' a rilento, ci sono novità su questo fronte? Le aveva dato sette giorni ad Assia per risolvere la situazione? Il piano sta funzionando alla grande, ieri sono state conferite quasi 1400 tonnellate di rifiuti grazie a uno sforzo straordinario di Caivano, quindi le criticità sono rientrate, tra ieri, stanotte ed oggi recuperano le giacenze. Però c'è un tema generale, infatti oggi ci sarà un tavolo in regione perché la quantità di rifiuti in città è aumentata notevolmente. Ora abbiamo avuto i dati statistici, li stiamo analizzando nell'ultimo anno, per non parlare dell'aumento dei rifiuti negli altri comuni, quindi abbiamo una serie di dati molto preoccupanti. C'è una flessione complessiva nell'area metropolitana, non ancora a Napoli, ma se continuiamo su questo trend accadrà anche a Napoli, di una diminuzione della raccolta differenziata. Questa è dovuta a una crisi dell'umido, di cui nessuno si interessa a livello nazionale, il governo non è riuscito a far passare anche degli emendamenti importanti, nonostante gli impegni, quindi questo è un tema serio, perché se non c'è il differenziato la gente mette tutto nei cassonetti e questo aumenta la quantità di rifiuti, sono rifiuti tra l'altro non assemblati bene, quindi vanno agli stir, gli stir rallentano, gli stir si rompono e si fanno le file. Panno M si è messa anche la pioggia, che statisticamente ha aumentato del 15% il tonnellaggio dei rifiuti, quindi la quantità media di Napoli era di 850 tonnellate, adesso è arrivata a 1150. Quindi questo è un tema che non può riguardare solo Napoli, deve riguardare la regione, che ha la competenza sui flussi, bisogna diversamente distribuire i flussi negli impianti di tutta la Campania, e poi sperare che prima o poi anche il Governo nazionale si accorga di tutto questo, perché Roma sta anche drogando il mercato, perché l'emergenza rifiuti a Roma ha creato una serie di complessità nella gestione complessiva del rifiuto a livello nazionale, ma Napoli ha dato ancora una volta una grande prova, perché in un momento in cui tanta acqua ci ha messo in difficoltà, gli impianti sono rotti, le file erano interminabili, siamo riusciti in pochi giorni a recuperare una situazione complicata, perché siamo andati oscillati tra le 200 e le 300 tonnellate per terra, quindi da oggi Napoli sarà pulita e il management di Asia sta lavorando anche per mettere in campo delle misure completamente innovative, come ho chiesto, per far fronte anche a queste criticità che si possono ripresentare, cioè come l'impianto si è rotto la settimana scorsa, si può rompere nuovamente, come ci può stare una protesta sindacale ieri, ci può stare pure domani, quindi il tema è molto serio e noi non vogliamo assolutamente fare passi indietro sulla differenziata, quindi ho chiesto uno sforzo importante sull'umido, Asia ha fatto dei contratti importanti a livello nazionale, si sta lavorando per rendere le isole ecologiche ancora più efficienti per ingombranti, plastica, vetro, siamo attrezzati per queste sfide molto grandi e chiediamo anche però, e chiudo, però il tema è importante, la collaborazione è veramente di tutti, perché insomma ci vogliamo rendere conto e penso che le immagini di ieri e l'altro ieri ce le hanno dimostrate, Napoli è invasa positivamente di viaggiatori, i viaggiatori consumano, i viaggiatori mangiano e bevono, più dei napoletani probabilmente che noi siamo presi sui problemi e sugli affanni, loro vengono giustamente per divertirsi e quindi si rilassano e consumano. Andiamo a 2-3 milioni di persone al giorno, i cestini ogni mezz'ora sono stracolmi, non può farcela sulla Asia, è impossibile, è da media 60 anni per quanto stressiamo la macchina, c'è il contributo di tutti, che ha un esercizio commerciale, ha il dovere di tenere pulito davanti al proprio esercizio commerciale, chi ha una trattoria o un ristorante si deve dare da fare, non è solo sversare tutto per strada e buttare tutto per strada, altrimenti anche se raccogli rifiuti e faremo gli sforzi straordinari, la città sarà sempre piena di ferite e di situazioni che non vanno. Noi faremo il massimo, però un appello veramente anche a tutti, di non gettare ingombranti in maniera indiscriminata come si sta facendo in questi giorni, o di non contribuire anche chi ha un negozio, che ha un esercizio commerciale, che ha un condominio, perché la cura della città appartiene a tutti quanti, siccome c'è tanta gente che sta venendo da noi, entusiasta di Napoli, vedete qua quanta gente veramente che ci sceglie, per noi è un motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità, deve essere una responsabilità collettiva, io ce la sto mettendo tutto, anche quando la responsabilità non è mia, come su alcuni temi di questi giorni, però chiedo veramente a tutti uno sforzo in più. La differenziata, lei pensa che ci voglia anche maggiore impegno da parte del Comune per incrementare la percentuale differenziata? Il Comune è arrivato al 40% con un'età media dell'azienda di 62 anni, senza che altri se ne importano, il tema è molto serio, ci sono Comuni che non la fanno più la differenziata, io vorrei che questa cosa passasse, se un Comune importante di 80 o 100 mila abitanti non fa la differenziata, vuol dire che emette umido insieme alla plastica e al vetro, e questo sacchetto in cui ci sta l'organico, la plastica e il vetro, arriva all'impianto stile di Tufino, di Giuliano o di Caivano, come se tu metti benzina sporca nel motore, arriva là, il motore si inceppa, si rompe e si fanno le fine, quindi il Comune, io non so come siamo arrivati al 40%, ma io temo che noi scenderemo, cioè se continua il disinteresse generale di chi dovrebbe fare di più, chi gestisce i flussi, chi ha i finanziamenti, pure il Governo nazionale, mi chiedo che cosa fa in materia di rifiuti, cioè se non dà degli strumenti in più, degli incentivi, se non ci consente per esempio di assumere, io veramente voglio ringraziare anche i dipendenti, che certe volte vengono accusati ingiustamente, poi se c'è qualcuno che sbaglia viene colpito, noi abbiamo licenziati diversi in Asia, però insomma io penso di portare avanti un'azienda con un'edà media di 60 anni, 62 anni, io voglio sfidare chiunque a dire vai a raccogliere il materiale di questi giorni con un'edà media di 60 anni, un paese che vuole investire deve consentire ai comuni e alle società partecipate di fare concorsi, se noi ne immettiamo gente di 20 anni, 25 anni, 30 anni, noi potremmo essere una macchina da quella, io ci avevo detto che la quota 100 sarebbe stata compensata da assunzioni, ma dove? Io oggi ho un altro, vedete, fra un po' c'è un altro pensionamento da festeggiare, ogni giorno do la mano a qualcuno che se ne va. Qualcuno ce lo siamo presi con il nostro sforzo, ma non c'è un piano straordinario di assunzione dell'APA, e allora per avere servizi più efficienti dai trasporti con più autisti e più mezzi, se hai le risorse, dai rifiuti con più personale, non c'è un piano straordinario che deve venire dal governo, che deve capire che la pubblica amministrazione per funzionare bene e meglio ha bisogno di giovani e i giovani hanno bisogno di lavoro, ma questo non arriva, quindi noi anche con le assunzioni che facciamo in questi giorni, pensate un po', noi mettiamo da gennaio con i 359 posti, abbiamo sbloccato col bilancio consolidato, avremmo finalmente quattro agronomi, cioè noi eravamo in massimo zero agronomi in tempo di cambiamenti climatici, quando la gente ci chiede di verificare gli alberi che sono un pericolo per la città, ma ci rendiamo conto zero agronomi, la terza città d'Italia? Adesso ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo quattro, a me sembra quasi di andare a fare, dicendo quattro, sono tutto felice, ma se poi rifletto, dico quattro, cioè è quattro, di questo parliamo. Quanti abitanti? Un milione formali, un milione e tre, un milione e quattro di fatto, due ogni giorno che vengono dall'area metropolitana della Campania, più i turisti, ogni giorno contiamo quasi tre milioni di persone a Napoli, con quattro agronomi. Le società partecipate da me, voi giustamente mi chiedete, il sindaco, il comune può fare di più? Come no? Può lavorare 26 euro al giorno, io per ora mi sono fermato a 22 negli ultimi giorni, con queste crisi in città, 22 euro. Ecco la schiena che mi fa male.